Bah, bah, oggi che dire, oggi che dire, è stato tutto fin troppo semplice, è stato tutto fin troppo semplice stranamente Inter che vince 6-0 a Verona, una cosa che nessuno si sarebbe mai aspettato E... sono un po' contento diciamo perché comunque c'è anche Zanotti che mezz'ora ha giocato Anche perché stavamo giocando anche dopo 30 minuti, dopo 60 minuti quindi è normale che doveva giocare qualche primavera Adesso veramente non c'era nemmeno nient'altro da dire, cioè, è stata una partita dove praticamente c'è riuscito tutto quello che non c'è riuscito ad aprire, praticamente Tutto quello che non c'è riuscito nelle partite di Monza, di Salerno, di... cioè con Monza, con la Salernitana, con la Fiorentina Cioè tutto quello che non c'è riuscito, in quelle partite lì c'è riuscito oggi praticamente Perché onestamente mi aspettavo di vincere perché comunque... perché comunque col Verona l'Inter deve vincere Ma 6-0, proprio in questo periodo qua, onestamente non me l'aspettavo E adesso la corsa si fa interessante perché il Milan pareggia con la Cremonese Allora, già detto così è una roba bellissima, cioè... La Cremonese penultima in classifica è riuscita a rimanere imbattuta contro il Milan E pensa che hanno segnato anche il recupero a questi qua Poteva anche vincere la Cremonese e riportarsi a 4 punti dal Verona e tornare a combattere la salvezza Però 6 punti, 5 giornate, magari se si impegnano potrebbero anche far miracolo Intanto noi che praticamente andiamo a 2 punti da Milan, Atalanta e Roma Prendiamo anche... cioè... restiamo a 3 punti dalla Juve e a 4 dalla Lazio Adesso Napoli gioca domani e vediamo se vince questo Benedetto Scudetto oppure no E personalmente chiudere anche qua Comunque... comunque sono contento anche che Diego sia tornato al gol Perché gli mancava da troppo tempo Bravi un po' tutti perché comunque... Cioè è andato un po' tutto quanto... un po' tutto quanto bene Cioè... fin dall'autogol, poi si è fatto due gol in un minuto Cioè... praticamente è successo l'apoteosi oggi E nulla... adesso testa la patica con la Roma perché quella è importante Mi raccomando... quella bisogna vincerla per forza